Nello splendido scenario della cascina farisengo a Buonemerse giovedì è avvenuto il passaggio delle consegne fra il presidente del Rotary Club Casalmaggiore Oliopò Daniel Damia e Marzio Somenzi. La serata conviviale ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli altri club rotariani del territorio, del Lions, Oliopò, del Rotaract e del distretto 2050. Si è assistito a una breve relazione del presidente Damia che ha insignito dell'onoreficenza Paul Harris Fellow sia Marzio Somenzi, segretario uscente e nuovo presidente appunto, sia Federica Sarzi, prefetto e incaricata del disbrigo di molteplici impegni organizzativi. A loro il presidente Damia ha espresso, estendendolo anche a tutti gli altri componenti del consiglio direttivo, il suo ringraziamento per la collaborazione ricevuta durante l'anno. Tanti infatti sono stati gli appuntamenti organizzati. Quest'anno abbiamo fatto la quarta edizione del Rila Junior che è stata un'esperienza fantastica, abbiamo lavorato con i ragazzi da Santa Federici che hanno messo in piedi uno spettacolo meraviglioso ed è stato emozionante vederli, ma anche gli ospiti che abbiamo avuto, le volte in cui ci siamo messi in gioco cucinando, facendo cose per il prossimo, sono tutte cose belle e diverse. La ruota del Rotary gira tutti gli anni per evitare l'incrostazione del potere e così dopo la cena conviviale, l'illustrazione delle numerose iniziative svolte, ecco il passaggio di consegne. Il nuovo presidente Marzio Somenzi ha delineato brevemente le linee della sua futura azione che saranno meglio dettagliate nel corso di una prossima conviviale. Qualche anticipazione? Sicuramente fare una differenza perché il nostro modo di fare, il nostro modo di porci verso gli altri, di costruire le cose da zero dall'inizio, fare un progetto, cominciare e definirlo con le nostre potenzialità, con le nostre forze, con le nostre capacità, fa sicuramente la differenza. In più quest'anno ospiteremo una giovane che viene dagli Stati Uniti, faremo uno scambio lungo, che accoglieremo come una figlia del nostro club. Somenzi di professione dentista agirà nel segno della continuità e anche il consiglio direttivo cambierà così di poco. Il club intanto ha vissuto una grande crescita culturale e un'apertura esterna con impegno sociale ed anche economico, azioni tutte svolte, con volontariato e nello spirito che da sempre caratterizza la presenza dei club Rotary. Grazie.